Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Oggi cambiamo di nuovo personaggio, questo è il sesto episodio e proviamo Raffaello Andiamo con Raffaello Dovrebbe essere molto potente, discretamente veloce, ma abbastanza debole O meglio, abbastanza... poco raggio Mettiamola così Tocca al sesto episodio, episodio 6, il crollo del Cicom Che è il centro commerciale, potrebbe essere Dove è la direzione? Sì, ok Luogo il centro commerciale di cristallo Uh, abbiamo... combatteremo tipo contro una strega? Ok, potentissimo Ha poco raggio, è vero, ma questo è potente, eh Poi è anche discretamente veloce, il che non mi dispiace affatto Qui non ci sono collezionabili, ok Ok, tiriamo giù il muro, via Qui forse sì Esattamente, diario il segreto Ma do, che combo Bella lì A questi che portano in giro i vassoi Fa un sapranzo? Vabbè, che merda però che tu entri E subito fai questa cosa, eh, cioè voglio dire Merde Merde Andate fuori dallo... va Facciamo... facciamoci un po' di presa così E via Basta mangiare, non è la posto pranzo Ole Qui non ci sono collezionabili, forse qui sì però Tu cosa sei? Ah, devo aspettare che si stunni così da solo Sì Dai, cadi Vabbè Addosso a me deve cadere sta merda Dai, stunnati, bravo Ma ti faccio una special Ah, questo devo... Devo terminarlo senza usare superattacchi Ok, potrebbe essere interessante come sfida da fare Ma tu? Vale, sto nemico comunque Ok, perlomeno con due combo viene ucciso Ma tu lì dietro? Vai Distruggiamo tutti Per bene Sì, va fuori dallo schermo Poi c'è il carrello qua che avrei potuto usare per distruggere i nemici Carino il centro commerciale come ambientazione comunque Guarda qua il carrello Il carrellon Eccoci qua Le piante Distruggiamole Che potrebbero nascondere i collezionabili Anche tu Via Ah, questa c'era una pizza Ok Questo con il massa frustro è pericoloso, eh Vabbè Vabbè E' attaccarlo così questo, va Scusa, eh Ok, crepa Molti oggetti da distruggere nel supermercato Giustamente Devo usare questo attacco contro di loro Mentre avevo contro di voi posso usare quello che voglio Tanto siete delle piffe Uh, musica assetta Anzi, videocassetta Che musica assetta Merda Uh, che joke slam che gli ho fatto Qui abbiamo il Napoleone salvati Perfetto Infami Robo di merda Vai Guardi tutti Bene, ok Bene Manchi solo tu, eh Impossibile colpire il robottino No, questo però è un po' fatto malino, eh Ok, andiamo Uh Ok 20 qui Sì, per evitare conviene proprio muoversi Muoversi Così Piuttosto che schivare Muoversi su e giù Andiamo Terza fase del livello Ok, di nuovo questo Più robottini questa volta, però Si rompono le palle Dai, merda Ole Ma un altro Ma che divertente Che altro Un nemico Un po' noioso da battere questo Poi ci mette tre anni Dai Ok Pizza time Bene così Vernon salvati Choke slam Distruttiva O meglio Non penso fosse una Choke slam quella Via tutti Aia Va bene Ok Proviamo la La sbeffeggiata Ok Aumento il livello di potenza extra raggiunto Buono Aia Ma che merda però No Cani del cacchio Va bene No Lasciami stare Tu e il tuo mazzafrustolo Ole Via Ah non è morto? Il resistente è previsto Qui abbiamo lo scarafaggio Ecco qua Ho trovato un insetto disgustoso Proprio Uh È lui Shredder Se ne va Le chiama Tempestra La dama dei giochi E si viene qua Tempestra Facciamo un gioco io e te Oh no Evoca Oddio Tento Sì è che evoca questa volta Oddio Stunna Puzza di gatto Guarda guarda Rutta Rutta e stunna Ok Che botta Vabbè sbeffeggiamo un po' E attiviamo la special Vabbè però non puoi stunnarmi sempre Questa puzza di merda Ole A due questa volta Cacchio Vero di conservarmi la special per adesso Vabbè sbeffeggiamoli un po' Tiriamo insieme la special E distruggiamoli Via Sbeffeggiamo Special Non stunnarmi infame Vabbè Questa non l'aveva mai fatto però come attacco Non me l'aspettavo Mi ho ucciso infatti Guarda che dovevi già morire prima tu Io ho usato la special addosso Guarda ti sbeffeggio Evo special Vai Guarda Ok Distrutta Buono E ti sbeffeggio pure Mentre crepi Easy peasy Easy peasy Gli ho detto pure Mi piace Raffaello Come mosse Non ha fatto male Sono preso pure il corpo Era il corso Ok Richiesta speciale sbloccata Tubolare Ok dovrebbe essere questa Vediamo eh Questa qui No Vai su Questa Raccogli tutte le videocassette Per Vernon Fenwick Ok Dovremmo aver raccolto anche magari Tutti i diari Vediamo quanti ce ne mancano Ma ce ne manca uno Ok Anche perché mi sa che ti Ti avverte Quando hai raccolto tutto Qui ci sarà un livello da sbloccare Magari segreto Ma noi dobbiamo fare il settimo in realtà Ma lo faremo Nel prossimo episodio Perché questo finisce qui Ti ricordo di mettere un mi piace Se il video ti è piaciuto Di commentare Ed iscriverti al canale Per non perderti i prossimi caricamenti Da Agla Trap Spear È tutto Al prossimo video